È arrivata la Befana, che sorpresone! Oh yeah! Non va più la vecchia calza, ma calzettone! Nel calzettone azzurro puoi trovare Magician, i leggendari Mystic Knights, i campioni del Wrestling, Sea-Watch e tante altre sorprese! Nel calzettone rosa puoi trovare Sakura, Tania, Ciccino Coricino, i simpaticissimi Coccolotti! E in più, in ogni calzettone c'è un goloso Big Baby Pop della Topps! Viva, viva la Befana! E viva Calzettone! Il vero calzettone è... Giochi preziosi!